calcio 7 open serie c4 si affrontano le arti calcio e un ricanes vediamo chi avrà la meglio colpi di testa palla buona conclusione con il sinistra fantastico di gianluca bordoni che dopo un minuto e 20 secondi sblocca la partita più occhio conclusione in porta attento l'esma più occhio colpo di testa arriva il 2 a 0 delle arti calcio con il gol di zanotti conclusione col destro e gran parata di lesma che mette in calcio d'angolo qui conclusione in porta col destro e gol degli hurricane che accorciano le distanze e arriva il gol del 3 a 1 lo segna corrani qui conclusione col destro palo clamoroso calcio in porta l'arco di nulla che occasione che si era costruita numero 10 vitali col destro arriva il gol del numero 10 il destro in porta cercato da scherio calcio di punizione battuto in porta ed è un gol fantastico quello di ludovico alberti e finisce qui finisce 4 a 2 per le arti calcio che salgono a quota 29 punti si agganciano momentaneamente banzo a quota 29 sono vitali delle arti calcio uno dei tanti protagonisti di questa splendida squadra con un pubblico clamoroso era importante vincere oggi l'avete fatto playoff centrati come è andata? è andata diciamo che il campionato è andato abbastanza bene non proprio rispetto a quello che ci aspettavamo comunque siamo una squadra molto giovane rispetto a tutti gli altri partecipanti però è primo anno insieme è il primo anno che giochiamo tutti insieme quindi tattiche nuove, allenatore nuovo, campo nuovi però tutto sommato bene dovremmo essere playoff giusto così pare e quindi ci giochiamo tutto spero ci vediamo lì allora, ci vediamo lì perfetto grazie mille complimenti a voi